E veniamo alle domande che le hanno lasciate in eredità Travaglio e da Milano. L'inchiesta di Milano sui commercialisti della Lega. Ai domiciliari il direttore amministrativo e revisore contabile della Lega e il titolare dello studio della sede di Lega Salvini, Premier. L'accusa acquisto di un capannone per rivendere la prezzo doppio a ente pubblico, 800 mila euro, metà del denaro su conto svizzero di una società panamense. Insomma ci sono centinaia di bonifici sospetti dalle casse leghiste, continui passaggi di denaro giustificati come consulenze, soldi di cui si perdono le tracce all'estero, l'acquisto di immobile con soldi pubblici. Ci sono fiduciari a Panama, capisce che suona molto male tutto questo, vero? Guardi, sono anni che ci sono inchieste che cercano i soldi in Russia, i soldi in Svizzera, i soldi in Liechtenstein, i soldi a San Marino, i soldi in Lussemburgo. Adesso ho visto che si aggiungono pure Panama, Cipro, poi per finire il risico metterei la Kamchatka e l'Argentina. Così copriamo mezzo mondo, non ha mai trovato niente, secondo me non trovano niente perché non abbiamo chiesto soldi o nascosto soldi da nessuna parte. Ho totale fiducia nella magistratura, indaghino, accertino, approfondiscono. L'unico processo che sto seguendo è quello che riguarda me, non per dei soldi ma perché ho bloccato degli sbarchi, visto che rischio 15 anni di galera per sequestro aggravato di persona, per aver fatto quello che ho promesso agli italiani di fare, ovvero sia contrastare gli scafisti e bloccare gli sbarchi. Altri processi non mi appassionano, ho piena fiducia nei giudici che approfondiranno, cercheranno, troveranno e penso assolveranno. La cena con gli inquisiti e Calderoli lei era presente? Guardi, io onestamente di cene ne faccio tutte le sere, colazioni, pranzo e cene. È assolutamente probabile e possibile che io abbia cenato con gli amministratori del mio movimento. Beh, ormai lo saprà però, lei si parla di quella cena quel giorno, lei ormai avrà chiamato i suoi avvocati, avrà controllato la sua agenda, lei era presente? No, non ho chiamato i miei avvocati, onestamente perché sono impegnato a fare altro, non inseguire soldi che non ci sono a Panama o in Svizzera. La sera di cui si parla io ero altrove e non ero a nessuna cena, però ne avrò fatte 30 di cene con i miei parlamentari, con i miei governatori, con i miei amministratori, con i miei sindaci, è il mio lavoro. A cena io lavoro, a pranzo io lavoro, quindi non penso che sia un segreto per nessuno. Allora, le presento con città...